Certo, che c'è voler coraggio tuo a lasciarlo qua dentro. Ma come un'amica tua, il ragazzino ce l'hai portato te e il coraggio è il mio. Sì, ma io te conosco e tu ce l'avresti lasciato. Io, eh. Senti, facciamo una cosa. Da oggi il ragazzino lo adotto io, va bene? No, lo adottiamo noi ma ci pensi te. Ah, lo adottiamo noi ma ci penso io, va bene. Vuol dire che almeno una cosa nella vita l'ho conclusa io. Guarda un po'. Ma vedi marità. Sì, ma ce l'è voluto per convincerla, eh. Franco ha tirato fuori tutto il suo repertorio. A momenti le prometteva di sposarla. E faceva bene, perché quella è la donna giusta per lui, guarda. Sì, ma so io che non so giusto. Comunque il bambino l'abbiamo recuperato e adesso aumentano le responsabilità. Organizzati. Sì, mi organizzo come mi organizzo? Tu accompagni Alberto a casa. Pagoria l'ippodrome e segui il giro. Datti da fare. Raccogli le scommesse e dì che noi siamo occupati. Il lavoro non si può e non si deve trascurare. Ci abbiamo anche un'altra bocca da sfamare, capito? Ci vediamo stasera, eh. Ci vediamo. Tu dove vai? Io ce l'ho fatta e che te frega. Ma non ci avevamo delle responsabilità. Sì, ma ci andiamo a turno. Comincia te. E ci avrà da fare, no? Che gli farai alle donne? E che gli fai? In amore gli va bene. Apposta è sfortunato al gioco. Tu allora dovresti vicimiarti, mo te l'ho detto. Guarda, che io con le donne non è che non c'ho fortuna. Io non le cerco. Perché io c'ho un solo grande amore. Luisa. E lei? Anche lei c'ha un solo grande amore. Che se scopro chi è, gli faccio un culo così. Andiamo, eh.